In questa serata, come avete visto, ci sono stati diversi strumenti solisti che hanno fatto da corona alle interpretazioni della nostra banda. E adesso nel prossimo brano, quale strumento solista, il prossimo brano vedrà impegnata la tromba. La tromba suonata da Marco Carretto. Prego Marco. Marco, che accompagnato dalla banda, eseguerà Mary Gold, scritta da Donald Furlano. Grazie. 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 Grazie.